Selle denuncia una situazione di illegalità a Pescara per quanto riguarda la spiaggia. Ci sono le strutture degli stabilimenti balneari che andrebbero rimosse e invece a fine stagione sono ancora lì. Certo, già da moltissimi anni vediamo la pratica negativa di deturpare la spiaggia che è di tutti, con una serie di strutture e recinzioni che impediscono alle persone di accedere alla spiaggia e godersi la spiaggia anche in quelle aree in cui è lecito poter stare anche senza appartenere a uno stabilimento. Il pieno spiaggia venne approvato per preservare l'assetto ambientale naturalistico della nostra spiaggia. Deve vigere un principio che i balneatori conclusa la stagione devono ripristinare tutte quante le aree perché avere una fruizione di quello che è il più grande parco di Pescara, cioè il nostro mare, avere una fruizione che sia libera da questi elementi ingombranti è un diritto di tutti quanti i cittadini.